11 mesi esatti dalla ristrutturazione del mercato di piazza Garibaldi. Era il 7 ottobre 2017. Ora toni più pacati e stemperati quelli degli ambulanti del mercoledì. Anche se incalzano in coro la diversa distribuzione dei posteggi e la lotta all'abusivismo non risolve la crisi. Ognuno fa leva sui suoi prodotti, insomma, lanciando il cuore oltre l'ostacolo, tenendo conto dell'ultimo bollettino diramato dalle associazioni di categoria. Una decina di ambulanti hanno chiuso le loro attività sul territorio e non sono intenzionati a rinnovare la licenza, ma altri dieci, che si muovono dalla costa e da altre località, hanno cambiato location. Riguardo il mercato c'è una forte crisi, ecco perché parlavo di turisti. Noi operatori diamo sempre il meglio lavorando con dei prodotti di alta qualità, con tracciabilità e serità. Piano piano si è migliore. Sì, sì, per il mercato. Che cosa c'è da cambiare? Non ci sta cambiando niente, qui se fai il mercato devi portare le cose e ti devi dare la fase, se no te ne vai a casa senza niente. Non è cambiato proprio niente, no, è aumentata ancora di più la crisi. Che prima c'era più scelta, adesso non c'è più niente. La chiusura del mercato. La proposta era quella di creare un consorzio a tutela del mercato, addirittura applicare la riduzione della TOSAP non solo ai tempi di giostra, ma per un anno intero. Con la ristrutturazione del mercato, obiettivo centrato dall'ex assessore comunale Cristia La Civita, in concerto con dirigenti e associazioni di categoria, il numero delle involanti è stato ridotto da 161 a 105, ma la nuova planimetria razionalizza l'occupazione del plateatico, introducendo i corridoi di soccorso e dei disabili, applicando il cosiddetto concetto di entrata libera, un complesso di azioni finalizzate a miglioramento dell'accessibilità delle persone con disabilità ai banchi delle merci esposte. Per Piazza Garibaldi si apre anche la strada di riconoscimento nel mercato storico, dopo la legge promulgata dalla Regione, un iter che ora dovrebbe richiamare gli interessi degli amministratori comunali per seguire tutti i passaggi. Se è vero che la ristrutturazione e il mercato storico non risolvono il problema del turismo e della crisi, per gli operatori è giusto utilizzare tutti gli strumenti a disposizione.